Buonasera a tutti e ben ritornati con l'appuntamento meteo di Antena 2. Dopo tanti giorni con l'assenza delle piogge, le tanto sospirate piogge preziose per il nostro territorio, nella giornata di domani arriverà un intenso peggioramento. Vedete infatti dalla grafica una circolazione depressionaria. Proprio sul Golfo Ligure, un minimo sul Golfo Ligure, accompagnerà un forte peggioramento del tempo, con piogge battenti per tutta la giornata su gran parte del nostro territorio, accompagnate anche da un calo sensibile delle temperature e con le nevicate che torneranno anche sulle nostre montagne aerobiche al di sopra dei 2.000-2.200 metri di altitudine. Ma cosa accadrà poi durante la settimana sul nostro territorio? Vedete come resteremo in compagnia di una circolazione depressionaria che piloterà aria piuttosto fredda in direzione proprio della catena alpina e quindi ci saranno occasioni durante la settimana per nuove piogge, seppur non di forte intensità, in un contesto di forte instabilità atmosferica e con un calo significativo delle temperature, tanto che delle spruzzate di neve a metà settimana potranno raggiungere il nostro territorio anche intorno ai 1.500 metri di altitudine, per cui da un autunno particolarmente mite ci ritroveremo in pochi giorni quasi ad un inizio d'inverno. Ma andiamo con ordine e vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani, domenica, che vede il maltempo interessare gran parte del nostro territorio, piogge che via via si faranno sempre più insistenti e più intense, specie sui nostri rilievi aerobici più settentrionali. Cadranno, pensate, fino a 80-100 mm di pioggia sulle rilievi aerobici, 50-60 mm nella zona della medio-bassa Valle Seriana, Lago di Iseo. Le tante sospirate piogge che poi porteranno anche le nevicate, ho indicato una quota nevicate a 2.300 metri al mattino, quando soffieranno ancora venti meridionali, quindi con aree ancora un po' mite, ma nel corso della giornata anche questa quota delle nevicate, anche per le precipitazioni intense, si abbasserà fino a circa 2.000 metri di altitudine. Prevediamo accumuli nevosi a fine giornata a oltre 2.500 metri di altitudine, anche di 30 cm al suolo, quindi nevicate importanti e significative sulle nostre montagne più alte orobico. Abbiamo detto che pioverà anche nella zona del Lago di Iseo e le piogge raggiungeranno anche la Valle Camonica, via via con maggiore insistenza, specie nella seconda parte della giornata. Soffieranno anche venti intensi dai quadranti meridionali, con raffiche di vento oltre 60 km orari, sui nostri rilievi orobici, al di sopra dei 1.500 metri di altitudine. Andiamo all'evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana. Vedete come lunedì ho indicato una giornata molto variabile, instabile, con possibilità ancora di qualche acquazione sul nostro territorio e temperature fresche. Vedete 4 gradi di minima occlusione, 8 gradi di massima. Zero termico a 2.100 metri di altitudine, per cui qualche spruzzata di neve nel corso di lunedì raggiungerà la quota 1.800 metri di altitudine. Poi arriverà una seconda perturbazione, un secondo nucleo di aria fresca, ci raggiungerà fra martedì, mercoledì e giovedì. Ho indicato un cielo per lo più coperto, grigio, quindi saranno giornate per lo più caratterizzate dal brutto tempo, con pioviggini, non saranno piogge insistenti, ma per lo più delle pioviggini, fra martedì e giovedì, con temperature davvero molto fresche, per il periodo direi quasi da dicembre. Vedete le minima occlusione fra i 3 e i 5 gradi, le massime non superiori ai 7-8 gradi in questi tre giorni, e le nevicate spruzzate di neve intorno ai 1.400-1.500 metri di altitudine. La situazione dovrebbe sbloccarsi con ampie schiarite, a partire dalla giornata di venerdì, a preannunciare un significativo miglioramento del tempo, sebbene farà ancora molto freddo per il periodo sul nostro territorio orobico. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.